Ciao a tutti amici Unbrewers e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di come preparare correttamente uno starter di lievito. Questo per rispondere alle diverse richieste da parte di alcuni di voi, in particolare da parte di Stefano, un mio patron, che mi chiedeva di approfondire questo argomento per poter utilizzare i vari calcolatori online con maggiore consapevolezza. Sulla questione della giusta quantità di lievito da inoculare se ne parla ormai da decenni con alcuni produttori da un lato che affermano che il contenuto di una busta è sufficiente a fermentare un batch standard e l'intera community mondiale degli unbrewers dall'altro lato che negli anni si avvalsa di ricerche e studi compiuti sulla microbiologia del lievito per dire il contrario. La verità è che l'unico modo scientificamente esatto che abbiamo per stabilire quante cellule abbiamo a disposizione è fare una conta cellulare ed è una cosa che solitamente si fa in laboratorio e ha il suo costo. Ci sono delle persone che lo fanno in casa però data la spesa iniziale per mettersi a fare il piccolo biologo secondo me non ne vale la pena. Quindi ci tocca fare una stima e fare una stima significa che sì possiamo trovarci al di sopra del risultato sperato ma significa anche che molto più realisticamente potremmo trovarci al di sotto del target quindi nel dubbio ci conviene abbondare. Per iniziare abbiamo bisogno della data di produzione del lievito. Prima era indicata in confezione, da qualche tempo invece troviamo soltanto la data di scadenza. Per risalire la data di produzione dobbiamo sottrarre sei mesi. Inserendo questa informazione nel tool di calcolo del mio portale riusciamo a stimare la percentuale di vitalità del lievito. Questo ci porta ad ottenere i miliardi di cellule vive nella confezione partendo dall'assunto che ogni confezione contenga 100 miliardi di cellule alla data di confezionamento. Altro parametro da fissare è il target ovvero il tasso di inoculo o pitching rate ideale per avere una buona fermentazione che corrisponde ai milioni di cellule per millilitro di mosto per grado plato. Tutto questo lo dobbiamo agli studi portati avanti da un signore chiamato George Fix professore laureato ad Harvard nonché un brewer dell'anno 1981 dell'American Brewer Association che ha posto le basi per molte cose che noi oggi diamo per scontate. Tra le tante cose negli anni 90 scrissi un libro intitolato Principles of Brewing Science che ho sempre cercato di acquistare in formato cartaceo senza mai riuscirci. Tutta diverso contributo ha influenzato la scrittura di libri più recenti come East di Chris White, il fondatore della White Labs, scritto nel 2010. E infatti prima di proseguire oltre ci tengo a dire che la maggior parte delle informazioni contenute in questo video sono state estrapolate da questo libro. Io l'ho acquistato diversi anni fa, oggi esiste una versione tradotta in italiano ed è sicuramente una lettura molto interessante se intendete approfondire l'argomento. Trovate il link in descrizione. Oltre a questo ci tengo a farvi sapere che congiuntamente alla scrittura di questo video ho preparato anche un approfondimento sulle formule utilizzate per dimensionare uno starter per non lasciare nulla al caso. Se siete curiosi e contemporaneamente intendete supportare questo canale tutto quello che dovete fare è abbonarvi al mio canale Patreon. Trovate anche in questo caso il link in descrizione. Torniamo al target. Dato che ho intenzione di brassare una birra ad alta fermentazione per me va bene 0,75. Ovviamente più aumenta la densità oppure più diminuisce la temperatura di fermentazione questo target andrà aumentato. Una volta inseriti tutti i dati il tool effettua il calcolo delle cellule necessarie in base al target scelto e mostra la differenza con quelle che invece abbiamo nella busta. Se questo parametro è negativo allora significa che siamo in under pitching e rischiamo che la fermentazione sia fiacca o che peggio ancora si blocchi. Arrivati a questo punto sembra evidente che ci tocca fare uno starter e per farlo utilizzeremo un agitatore magnetico. Questo semplice strumento agitando costantemente la soluzione di mosto e lievito permette di aumentare in modo significativo la crescita di quest'ultimo. Anni fa non era affatto facile trovarli a prezzi contenuti e agli homebrewers toccava quasi sempre costruirsi da soli così come ho fatto anche io. Ma devo dire che da qualche tempo si trovano tranquillamente su Amazon a poche decine di euro per cui è una spesa che vi consiglio vivamente di fare. Anche per questo oggetto trovate lì in descrizione. Torniamo sul portale e inseriamo un volume per lo starter che sia superiore al litro altrimenti non avrebbe senso. È una densità intorno a 1,40. Non serve né stare troppo bassi né pompare di estratto il mosto che andiamo a preparare. Il tool ci restituisce i grammi di estratto di malto necessari per preparare lo starter e ci dice anche quale sarà presumibilmente la stima delle cellule finali. Dato che è verde significa che possiamo fermarci al primo step. Ad ogni modo il tool presente sul mio portale supporta fino a due step che con gli agitatori magnetici bastano e avanzano per quasi tutte le evenienze. Adesso che abbiamo calcolato tutto quello che ci serve ci basterà mettere due litri d'acqua a bollire e aggiungere la quantità di estratto richiesta. Opzionale ma vivamente consigliata l'aggiunta di nutrienti per lievito e di una goccia di antifoam che serve ad evitare che il mosto durante la crescita possa fare schiuma e uscire dalla beuta. Dopodiché mentre raffreddiamo il mosto sanifichiamo tutto e mettiamo sull'agitatore. Veniamo adesso ai tempi. Per la crescita ci servono dalle 24 alle 48 ore dopodiché dobbiamo passare la beuta in frigo per far separare il lievito dal mosto. Quindi ci servono almeno tre giorni di tempo. Io però faccio un ulteriore passaggio preventivo ovvero rompo la capsula interna di nutrienti tipica delle confezioni whist e aspetto altre 24-36 ore prima di procedere con la preparazione dello starter. Arrotondando per difetto mi serviranno 5 giorni per essere pronto. Quindi se la cotta la faccio di sabato mattina romperò la capsula il martedì sera, il mercoledì sera preparerò lo starter, lo terrò sull'agitatore fino a venerdì sera e poi il venerdì sera porterò la beuta in frigo. Quando sarà arrivato il momento di inoculare eliminerò tutta la parte liquida lasciandone solo un po' per rimescolare il lievito nella beuta per poi inserirlo nel mosto. Non dimenticatevi l'ancoretta altrimenti la inoculate insieme al lievito. Bene amici Umbruers, anche per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e qualora vogliate approfondire l'argomento vi invito a diventare patron dello Sgabuzen per accedere ai contenuti aggiuntivi. Per il momento io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti a questo canale e vi do appuntamento al video di venerdì prossimo. Ciao Umbruers! Ciao Umbruers! Ciao Umbruers! Ciao Umbruers!